Musica Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, benvenuti. Sì, è sabato 26 marzo. Abbiamo un nuovo appuntamento della nostra rubrica bisettimanale WePesaroTV, dove affrontiamo insieme a componenti, elementi dell'amministrazione comunale, tutto ciò che riguarda la vita del Comune di Pesaro ed è tornata con noi dopo tre mesi dalla sua prima visita nei nostri studi a Edi Morotti. Grazie, buongiorno, grazie mille dell'invito e sono molto felice di essere qua oggi. Siamo molto contenti anche noi di averti di nuovo con noi. Partiamo subito da questo. A dicembre c'è stata un pochino, c'è stata qualche novità a livello dell'aggiunta regionale. A te si sono aggiunti dei compiti in più, delle deleghe importanti. Le nomino, politiche per la casa, le politiche per le abitative, delega sull'immigrazione e delega sulle politiche giovanili. Com'è andato? Come sono andati questi primi tre mesi, Aidi? Sono stati tre mesi impegnativi perché comunque ti ritrovi a dover iniziare da zero un percorso che aveva già iniziato qualcuno prima di te, per cui è stato un percorso sia di avvicinamento che di scoperta, ma nel frattempo si è lavorato molto perché ci sono tanti temi caldi in questo momento che hanno bisogno di essere portati avanti e tante risposte da dare. Sulle politiche abitative abbiamo adesso delle nuove graduatorie, bisogna fare le assegnazioni delle nuove abitazioni, ci sono i regolamenti da aggiornare, da cambiare, insomma il lavoro non manca. E poi con i giovani sappiamo il grande lavoro che si è aperto in questo momento sia con tutti gli eventi da preparare per la città dei giovani, ma anche tutti i problemi che sono emersi soprattutto dopo il Covid, per cui insomma c'è tanto lavoro da fare e quindi olio di gomito e lavorare forte. Bene, a proposito di questo lavoro guardiamo subito il servizio che abbiamo realizzato qualche giorno fa e che si riferisce a un titolo importante che la città di Pesaro ha avuto quasi accavallandosi a quello di città della cultura del 2024 e in questo caso si tratta di città dei giovani 2022. Pensate che l'amministrazione di Pesaro è riuscita a vincere questo importante, virgolette, consideriamolo titolo, che è stato consegnato, è stato conferito proprio a te e all'assessore Mila Dell'Adora che insieme a te ha preparato, è stata diciamo la protagonista della fase di preparazione, è stato conferito a Brescia e avete peraltro superato una importantissima concorrenza perché le città concorrenti in questo titolo erano Bergamo e Napoli, quindi non proprio due cittadine. Vediamo il servizio e poi ne parliamo insieme. Pesaro non si ferma e rischia l'indigestione di premi. Ad appena 24 ore dal titolo di Capitale Italiana della Cultura 2024, Pesaro viene proclamata anche Città Italiana dei Giovani 2022. L'annuncio è arrivato dal Palazzo della Loggia di Brescia, città detentrice del 2021, per il riconoscimento assegnato dal Consiglio Nazionale dei Giovani in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, nonché l'Agenzia Nazionale per i Giovani. A ricevere il premio a Brescia le Assessore Comunali alla Rapidità e alla Sostenibilità Mila della Dora e Aidi Morotti. Pesaro ha partecipato anche lo scorso anno fermandosi sul podio, questa volta ha battuto in finale Bergamo e Napoli vincendo con un progetto chiamato WePesaro Young Innovation Lab che è stato illustrato da Mila della Dora nell'esposizione a Brescia. Investire sui giorni significa investire sul futuro, investire sulle nuove generazioni. Il processo di candidatura per Pesaro è partito come un processo tra la gente e con la gente, come la politica migliore, quell'elemento alle persone. Il punto strategico è quello della costituzione di un network, un network che prevederà il coinvolgimento di tutte queste persone che hanno visto che hanno dato qualcuno tributo, ci saranno dei laboratori, ci saranno altre iniziative, già siamo partiti ipotizzando un consiglio comunale dei giovani. Le idee che vogliamo portare all'interno di questi laboratori, di questi momenti di incontro, saranno idee e progetti in cui i giovani saranno protagonisti, perché sono loro che sceglieranno le tematiche, sono loro che sceglieranno quello che poi sono le cose che per loro, per il futuro, saranno sicuramente più importanti. Pesaro viene premiata per aver saputo coinvolgere tanti giovani del territorio e per aver costruito una programmazione innovativa con percorsi di inclusione, soprattutto per i giovani con minore opportunità e con azioni mirate a mitigare le drammatiche conseguenze economiche e sociali causate dalla pandemia. Una serie di azioni che ora verranno potenziate grazie alla vittoria del premio Città dei Giovani 2022. Ok Heidi, quindi questo è il brevemente illustrato dai nostri due minuti di servizio. Allora, la Città dei Giovani 2022. Raccontaci un pochino di più, spiegaci in cosa consiste davvero questa grande nuova opportunità per la Città di Pesaro. Sì, è una grande opportunità, sono molto contenta adesso di far parte di questo progetto. Innanzitutto vorrei per prima cosa sfatare un mito, nel senso che ho visto, ho sentito, ho letto commenti anche sui social in cui si dice Pesaro non può essere la Città dei Giovani perché non ci sono le discoteche. Ora, Città dei Giovani non significa offrire la discoteca, offrire i cinema o comunque soltanto questo tipo di divertimento. Significa avere una programmazione culturale, impegnativa, impegnata, tarata sui giovani, per i giovani, parlando ai giovani delle necessità e dei problemi e delle speranze della progettazione futura che hanno i giovani nella nostra città. Quindi si tratta di migliorare un pochino la città e l'offerta che la città dà ai giovani assieme ai giovani. Sì, anche perché è vero, discoteche, prati dove correre e scorrazzare, tutto quello che volete, cinema, perfetto, ma essere giovani è anche una grande, piccola responsabilità personale nel senso che comunque iniziare un percorso culturale nel senso più ampio del termine è davvero fondamentale poi per il prosieguo della vita. Esatto, più che altro uno degli obiettivi di questo progetto era quello di cercare di coinvolgere i giovani facendoli sentire una cittadinanza attiva. Purtroppo ci siamo accorti che forse spesso non erano coinvolti a sufficienza, non erano informati a sufficienza, quindi anche tutte le opportunità che venivano messe in campo, che venivano offerte proprio a questo segmento della nostra cittadinanza, della nostra popolazione, non veniva recepito perché non era sentito, non arrivava bene la comunicazione o forse perché magari non era il modo giusto di interessarli e quindi si è cercato con questo progetto di, ascoltando loro, si è cercato di fare in modo che questi messaggi arrivassero direttamente alla fascia di popolazione a cui erano rivolti. Infatti c'è stata tutta una fase preparatoria ed è quella in realtà che ha portato poi alla, si può dire in sintesi, alla competizione per avere questo titolo e questa fase preparatoria è stata seguita, appunto l'abbiamo detto, da Mila Dall'Ora esattamente in cosa è consistita? Quando hanno fatto questa prima, questa progettualità si sono relazionati, si sono sentiti con tutte quelle che erano le parti interessate, quindi tutti i vari enti, le associazioni, anche i giovani tramite le scuole che non fanno parte né di enti né di associazioni per capire quali potevano essere le esigenze, le necessità e qual era il percorso da intraprendere per poterli in qualche modo coinvolgere in questo ruolo attivo all'interno della città. Quindi è stato un percorso lungo, sono stati fatti diversi incontri e da lì poi si è costruito il progetto che adesso dovrà essere messo in pratica. Esatto, infatti è questo il bello. Fino adesso si è parlata della parte teorica, quindi è stato messo tutto sulla carta, tutta sulla progettualità, poi arrivi tu con la tua nuova delega, l'assessorato e adesso tocca a te invece concretizzarla. Esatto, abbiamo già fatto, abbiamo già cominciato i primi incontri perché dobbiamo assolutamente correre, perché l'anno finisce in fretta. abbiamo almeno dieci appuntamenti, incontri da sviluppare, da proporre con le varie tematiche che erano state già individuate, quindi abbiamo tematiche che riguardano il disagio giovanile visto come difficoltà nelle relazioni, abbiamo la tematica del bullismo, abbiamo la tematica della violenza di genere, quindi insomma cose abbastanza pesanti di cui però i giovani sentono la necessità di poter parlare, di poter conoscere, sviscerare, in modo anche da poter riconoscere dove sono i problemi, ma con dei linguaggi e degli strumenti che sono tarati sulla loro età, sulla loro esigenza. Adeguati quindi proprio alle loro capacità anche di poter recepire ciò che gli viene detto. Hai parlato di tre aree, tre aree importanti sulle quali torneremo anche fra poco, poi ce ne sono altre perché hai citato tre esempi di situazioni particolarmente difficili, chiaramente pregnanti della vita dei nostri giovani. Immagino che ci siano anche invece tematiche più rivolte proprio al futuro, più rivolte alla pratica di tutti i giorni anche in termini positivi. Esatto, sì, perché avremo all'interno di questi incontri anche dei momenti di progettazione futura, non si parla di inserimenti lavorativi ma comunque si parla di aiutarli, di dargli modo di capire, di scoprire, di esplorare quali possono essere le loro inclinazioni future a livello di studio, a livello lavorativo, a livello artistico, perché abbiamo tanti ragazzi giovani che sono dotati di grandissime qualità artistiche e non sanno come svilupparsi, come proporsi, per cui insomma è tutto un percorso che serve a questi ragazzi per cercare di aprirgli un po' anche gli orizzonti, fargli capire quali sono le possibilità, ma anche semplicemente fargli capire quali sono le figure a cui possono rivolgersi, dove possono trovare le informazioni, insomma un progetto un po' a tutto tondo. È bellissimo infatti molto spesso capire, comprendere come le vite dei giovani tante volte cambiano e prendono magari strade migliori piuttosto che peggiori, anche quando incontrano gli adulti giusti. E questo avviene anche al contrario, perché lo scambio adulto-giovane è veramente un modo per capire cosa succede da un altro punto di vista. Mi è capitato ultimamente di parlare con un ragazzo giovane di una ventina d'anni e chiedergli ma tu come lo stai vivendo in questo momento? E ho scoperto un punto di vista totalmente diverso dal mio. Però siccome sai che molto spesso l'attenzione poi casca dove magari le cose sono peggiori piuttosto che migliori, tu hai parlato per esempio del disagio giovanile. Disagio giovanile che è una vera e propria piaga sociale di questo periodo lo dimostrano i fatti che noi purtroppo siamo costretti a raccontare leggendo i giornali anche nei nostri telegiornali. Ora, sì, Pesaro chiaramente non fa eccezione rispetto ad altre città quindi anche noi pur non essendo una metropoli abbiamo qualche piccolo problemino. Diciamo che forse essendo una città in cui non c'era mai stato queste forme di disagio così anche un po' spettacolare che finisce in prima pagina nei giornali diciamo che adesso che invece qualche episodio è successo è stato un po' amplificato dal fatto che forse stavamo molto bene prima e quindi non ci siamo resi conto ecco che il fenomeno adesso sì è presente ma è comunque una cosa circoscritta, limitata degli episodi e io mi sento forse anche un po' di sposare quello che ha detto l'assessore Murgia proprio qualche giorno fa forse dopo il Covid ci siamo resi conto che i ragazzi hanno bisogno di trovare degli spazi diversi di relazionarsi in maniera diversa e anche ascoltando i centri giovanili che con questi ragazzi lavorano tutti i giorni in generale quindi sono a stretto contatto ci siamo resi conto facendo un'analisi che spesso e volentieri il non rispetto degli spazi quindi il piccolo atto vandalico che non va giustificato quindi non vorrei che che mi si fraintendesse però forse sono espressioni adesso di ragazzi che sono stati chiusi per due anni a cui è stata tolta la socialità hanno avuto la vita stravolta un po' come ce l'abbiamo avuto tutti ecco forse stanno reagendo in maniera sbagliata però non partono questi atteggiamenti non partono da dei ragazzi che sono patologici che hanno delle difficoltà a livello proprio di relazioni a livello anche legale che possono trascendere in cose più gravi ma forse sono solo dei ragazzi che in questo momento sono un po' alla ricerca di loro stessi e non si rendono ben conto chiusi due anni di fronte a videogiochi e televisioni forse non si rendono ben conto dei limiti che non andrebbero oltrepassati ecco quindi penso che ci sia del lavoro da fare ma non ci allarmiamo e cerchiamo di rimanere obiettivi ecco certo è un po' il concetto che se noi vediamo una bottiglia di coca cola nello scaffale di un supermercato è bellissima sta lì buona se la sbattiamo però nel momento in cui l'apriamo purtroppo salta e ci bagna tutti perché è così e quindi immaginate questi giovani questi ragazzi che vivono un'età meravigliosamente irripetibile che per due anni sono stati costretti a familiarizzare con il termine dad esatto quindi gli abbiamo non gli abbiamo la pandemia purtroppo gli ha portato via esperienze di vita che non ripeteranno più immagino i ragazzi della quinta superiore che non hanno potuto fare i 100 giorni o le gite scolastiche che non sono state fatte negli anni scorsi cioè la gita che fai in terza elementare in seconda media o alle superiori in qualunque classe sia non la rifai l'anno dopo ne fai un'altra quella l'hai persa non la recupererai mai più quindi è un tassello che ti viene a mancare e fallo per due anni i tasselli che mancano sono parecchi e quindi nel momento in cui si ritrovano tra loro liberi delle volte magari possono avere un attimo un obiettivo un po' poco a fuoco ecco certo un pochino fuorviato consiglia Raidi che pochi giorni fa parlavo con una ragazzina una bambina che con la sua meravigliosa sincerità ingenuità mi ha detto ma io vedo tutti i giorni nella tv ma perché anche la guerra non la fanno in dad vedi le perle dei bambini questa è una cosa a noi ci fa sorridere però ci sarebbe tanto da ragionare dietro a questo dietro a questo tema nel senso che una cosa così brutta come la guerra che si vive in prima persona perché poi è reale noi la vediamo dietro uno schermo perché vediamo i servizi tv però la stiamo anche vivendo toccando con mano con tutte le persone che sono arrivate fuggendo che sono ospitate nella nostra città e sentiamo i racconti ed è qualcosa di terribile e pensare che una bambina con la sua semplicità con la sua con la sua innocenza forse non riesca a calare nella realtà quello che la guerra è è difficile quindi insomma anche questo è un messaggio da tenere ben presente esatto ci fa comprendere quanto sia difficile interpretare ciò che avviene nel mondo anche attraverso i mezzi di comunicazione che oggi sono veramente sparati a mille sempre Heidi Pesaro l'abbiamo accennato l'abbiamo detto in apertura è stata insignita anche di un altro grandissimo riconoscimento che è il riconoscimento di città capitale della cultura 2024 è stata una settimana esplosiva di festa davvero di grande soddisfazione per tutti io ho visto pesaresi di ogni tipo che erano contenti di questo anche chi magari il giorno prima criticava ma è molto classico salire no anche sul caro del vincitore nel momento in cui il caro va vediamo brevemente il servizio che abbiamo realizzato sabato scorso sulla festa che si è svolta nell'area antistante alla vecchia pescheria in fondo al corso e poi chiudiamo parlando di questa grandissima occasione per la città nel 2024 sono state le note prodigiosi di Diana Tvalishvili ad aprire la festa di sabato sera dedicata alla vittoria di Pesaro capitale della cultura 2024 applausi per la bambina ucraina di 9 anni in fuga da Kharkiv e adottata artisticamente dal conservatorio di Pesaro un'apertura in musica dagli alti valori simbolici umanitari che ha poi fatto salire sul palco di piazza della creatività al centro artivisive pescheria i protagonisti della città orchestra quelli che hanno reso possibile un percorso da vittoria a cominciare dal vice sindaco Daniele Vimini una giornata storica per la nostra città e per tutto il territorio e che da oggi parte un viaggio nuovo insomma la responsabilità che abbiamo di fronte a tutta la regione e a tutto lo Stato di fare valere al meglio il progetto che è stato premiato all'unimità della commissione e che ha fatto in modo che Pesaro potesse diventare capitale della cultura per il 2024 e credo che la visibilità che potrà avere la città di Pesaro in questi anni potrà essere un ottimo strumento di rivalza per tutta la nostra regione in una serata lietata anche dalla musica di Clarissa Vichi e dei bambini dell'asilo le voci dei tanti testimonian della candidatura tra cui Angela Scatigna moglie di Massimo Dolcini la giovane iscrittrice Giorgia Righi e Mattea Faux figlia di Dario Faux e Franca Rame applausi per Agostino Ritano che dopo aver guidato la vittoria di Procida a capitale della cultura 2022 ha fatto altrettanto con Pesaro meritandosi di essere ribattezzato da Ricci il Cristiano Ronaldo delle candidature un viaggio che è partito con grande semplicità con grande sobrietà e devo dire che l'elemento della sobrietà è stato l'elemento che ha caratterizzato questo percorso fra i tanti concetti esposti dal sindaco Ricci la forte sottolineatura alla mentalità che ha portato alla vittoria ognuno di noi dei nazionali ricordate quando lanciai questa idea la Pesaro nazionale qualche anno fa era proprio questa idea l'idea di chi sa che ha tanti problemi ma anche di chi sa che ha una grande potenzialità perché ha gente tosta che ha una forte cultura del fare e della solidarietà che ha dimostrato in tante fasi della storia di poter essere una delle parti migliori del nostro paese sempre però con l'orgoglio di chi è di provincia come siamo noi abbiamo più volte detto un grandissimo risultato raggiunto dall'assessore dal vice sindaco Daniele Vimini io ci tengo a sottolineare e credo di essere nel giusto nel dire questo che in realtà è una vittoria di tutti di tutta l'amministrazione di tutto il consiglio di tutta la giunta di tutti coloro che si sono dati da fare e in ultima analisi di tutta la città sicuramente è stata una grandissima vittoria frutto di un grandissimo lavoro anche di squadra Daniele Vimini senz'altro si è veramente impegnato anima e corpo per questo progetto e infatti si vedono i risultati di quello che ha prodotto il suo grande impegno questo riconoscimento è una cosa che andrà a beneficio di tutta la città perché sicuramente ci aiuterà anche in questo momento di ripresa in cui abbiamo bisogno di rinforzare un po' anche l'economia ci aiuterà a far girare il turismo probabilmente avremo più turisti più visitatori anche che verranno a vedere tutto il palinsesto degli eventi culturali che verranno presentati ma non solo su Pesaro ma anche su tutti i comuni della provincia quindi ci sarà un beneficio che ricadrà non solo su Pesaro ma su tutta la provincia sui turisti che si sposteranno da un comune all'altro per andare a vedere gli eventi che saranno in quella settimana coordinati da Pesaro anche in un altro comune quindi io da questa vittoria vedo soltanto dei gran benefici per tutti certo sarà sicuramente così e chissà ci saranno anche tante occasioni anche per i giovani senz'altro sì anche perché anche in questo si è anche in questo progetto si è avuto sicuramente un occhio anche su questa tematica quindi non mi resta altro che invitare tutti a partecipare a tutti gli eventi che saranno messi in calendario e godetevi questo evento perché sicuramente porterà delle cose di altissimo livello e di grande qualità e già noi anticipiamo che ovviamente come Rossini TV seguiremo il 2024 ma anche tutta la preparazione con grande sforzo editoriale da parte di tutti noi siamo contentissimi vi invitiamo per questo a risintonizzare continuamente i vostri televisori perché per esempio Heidi ci diceva che non abita proprio in centro a Pesaro lei il canale 80 lo vede benissimo esatto io lo vedo benissimo lo prendo molto bene e l'ho risintonizzato da poco ecco esatto quindi risintonizziamo i televisori perché è molto importante diamo sempre un occhio aspettiamo qualora ci dovessero essere dei momenti in cui questo segnale non viene recepito nel canale 80 l'obiettivo è quello di rendere Rossini TV sempre più visibile e sempre meglio visibile quindi davvero è una grande evoluzione tecnologica della nostra tv anche lei che mira veramente a vivere al meglio questi due anni un anno e mezzo di preparazione verso questo evento eccezionale che sarà il 2024 Heidi come sempre grazie sei stata chiarissima cosa ti devo dire niente di più se non che è un piacere parlare con te grazie Bill anche per me ci rivediamo presto ci saranno altre occasioni sicuramente senza altro grazie Heidi a noi non resta che augurare a tutti i nostri ascoltatori un buon weekend ci rivediamo fra due settimane grazie a tutti i nostri ascoltatori